Oggi una nuova puntata di Try On A Wool sul mio canale, ci saranno due outfit differenti, vota il tuo preferito, mi raccomando segui il video fino alla fine e scrivimelo qua sotto nei commenti. Ma adesso è ora di partire! Indosso un top nero di pizzo, come puoi vedere, molto carino, comodo, elegante allo stesso tempo, semplice, si può indossare sia per una serata che durante il giorno volendo. È a fascia, molto aderente, comodo e non è molto trasparente, quindi si può indossare anche senza reggiseno, tranquillamente. Io l'ho abbinato a un paio di jeans lunghi, eccoli qua, color blu, leggermente strappati, in due o tre punti, come puoi vedere, quindi strappati ma non troppo. Dietro indossano così, abbastanza attillati. La vita è media, diciamo, come puoi vedere, e vanno a sigaretta, quindi vanno stretti in fondo. E l'ho abbinato a un paio di scarpe col tacco, come puoi vedere, tacco a spillo 12 e mezzo, color nero, opache, vellutate, simil velluto insomma. E questo è il risultato. Via col primo look! Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mini gonna, color nero, balze, fa l'effetto vento, se la metti ad andare in giro è una figata, il giorno che c'è il vento, via, svolasta la gonna qua e là, e in mezzo ho uno strass, color argento, con questa fascia. La lunghezza è questa. È molto leggera, pratica, materiale sintetico, comoda, abbinabile sia a un outfit elegante come questo, oppure anche a un outfit sportivo, si può indossare anche tutti i giorni per uscire a fare una camminata o per fare sport. L'ho abbinata a questo paio di scarpe, tappo a spillo, 12 e mezzo, color nero opaco. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.